L'assessore Fanesi avrebbe fatto bene forse a tacere questa volta perché i dati su cui noi abbiamo fatto i calcoli per quanto riguarda il ribasso dell'asta per le asfaltature di luglio del 2016 li abbiamo presi proprio da lui. E' altro che fake news o errori di calcolo eliminandoli IVA, non so che cosa abbia detto per giustificare il fatto che il ribasso d'asta non era del 40% ma come dice lui del 25%. Leggo proprio le sue testuali parole tra innumerevoli organi di informazioni che hanno riportato questa notizia. Cristian Fanesi presenta il maxilotto di asfaltature del costo di 794 mila euro affidato in appalto a 480 mila euro a seguito di un ribasso d'asta. Qui basta veramente avere una semplicissima calcolatrice, fare il calcolo per capire quanto è stato il ribasso e misura proprio il 40% proprio come il dato che abbiamo dato noi. Quindi insomma è un assessore che smentisce se stesso dicendo che il Movimento 5 Stelle ha sbagliato i calcoli o ha appunto portato delle fake news. Oltretutto ci ha accusato del fatto che abbiamo detto che le buche, gli avvallamenti che ci sono nel tratto appunto di strada che va ad esempio soprattutto nel viale della stazione, il viale del 12 settembre che parte dagli ex capannoni di Carnevale fino alla stazione stessa, erano avvallamenti che non c'erano prima dei lavori fatti a luglio del 2016. Assolutamente, insomma tutti i cittadini penso si ricordino bene che proprio in quei punti molto critici dove appunto poi è stata fatta questa specie di asfaltatura con un tappettino molto sottile, erano assolutamente gli stessi che oggi ritroviamo. Quindi insomma non ci prende in giro né a noi né ai cittadini il nostro assessore. Faccia bene i prossimi lavori e poi semmai vedremo come ha lavorato nei prossimi anni e vedremo anche e soprattutto quali saranno i risultati poi concreti e veri di queste nuove asfaltature che ci aspettano come dice lui da marzo del 2018.